Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10. L'apertura del notiziario è dedicata all'intensa attività dei carabinieri e della Polizia Municipale. A Gela, numerosi controlli soprattutto dinanzi agli istituti scolastici. Vediamo. Controlli capillari da parte delle forze dell'ordine, a Gela, pattuglie dei carabinieri e dei vigili urbani sono state disseminate in tutto il territorio comunale al fine di scongiurare il perpetrarsi di reati. Per i militari dell'arma l'attività è stata promossa dal comandante maggiore Valerio Marra e coordinata dal comandante del nucleo operativo e radio mobile, tenente Francesco Ferrante. Abbiamo organizzato una serie di controlli lungo le strade della città e in particolare davanti agli istituti scolastici anche durante l'orario sia di entrata che di uscita degli studenti da scuola unitamente alla Polizia Municipale di Gela. È un'attività che mira a salvaguardare le vite umane, quindi le giovani vite e a contravvenzionare tutti quei comportamenti, soprattutto il mancato uso del casco protettivo. Sono controlli diurni e notturni? Sono controlli anche che vengono svolti di notte, noi sabato sera ne abbiamo svolto uno importante nella zona di Piazza Salandra, di Via Rossini, in tutte le strade del centro storico, anche di Piazza Roma e abbiamo contravvenzionato non solo diversi giovani ma alcuni di loro sono stati segnalati all'ufficio territoriale del governo, ovvero alla Prefettura di Caltanissetta, per uso personale di sostanze stupefacenti. Sono controlli che abbiamo anche effettuato con l'uso degli nostri apparati etilometrici volti appunto a infrenare il fenomeno delle cosiddette stragi del sabato sera. Quale c'è il fenomeno dei ragazzi che invece sono in sella al proprio motorino, che non indossano il casco? Intanto loro rispondono sicuramente di una contravvenzione al codice della strada, come ho detto prima. Ricordiamo che è anche la causa di molti incidenti stradali, anche mortali, le cui conseguenze appunto vengono accentuate dal mancato uso del casco protettivo, che ricordo a tutti deve essere anche allacciato e deve essere di tipo omologato. Numerosi casi di auto fermate senza la regolare copertura assicurativa. Questo avviene purtroppo abbastanza spesso. Noi oggi abbiamo la possibilità, attraverso un sistema speditivo che ci consente il Ministero dei Rasporti e delle Infrastrutture, di accertare in tempo reale, nel giro di pochissimi secondi, se un'auto è sprovvista dalla copertura assicurativa e anche dalla prevista revisione. È un controllo che viene fatto in maniera molto rapida, attraverso un collegamento alla nostra centrale operativa. Nel giro di pochi secondi noi riusciamo a stabilire queste due cose contemporaneamente. Quindi invito anche gli automobilisti soprattutto a dotarsi di copertura assicurativa e a portare la loro auto a revisione. Un mare di opportunità è il titolo dato al ciclo di seminari promosso dal gruppo di azione costiera Unicità del Golfo, formato dai comuni di Gela, Butera, Licata, Lampedusa e Linosa. Gli incontri sulle occasioni e lo sviluppo del settore della pesca saranno tenuti da esperti, studiosi e amministratori comunali. Il primo appuntamento è per domani, giovedì 3 dicembre alle ore 16, nella sede dell'area Marina Protetta a Lampedusa. Venerdì 4 dicembre alle 16.30 sarà la volta di Licata con un seminario nella Sala Convegni del Carmine. E infine sabato 5 dicembre, sempre allo stesso orario, a Gela, alla Pinacoteca Comunale. Qui i lavori saranno aperti dal sindaco Domenico Messinese, che è anche presidente del GAC. Seguiranno poi gli interventi sul piano di sviluppo locale tenuti dal coordinatore tecnico Tonino Collura, da Alessandro Alongi, Giuseppe Pizzillo, Igor Richichi di Eures Group. L'esperto di economia e gestione della pesca, Massimo Spagnolo, si occuperà poi di politica comune della pesca e modererà un dibattito in cui relazioneranno, tra gli altri esponenti della Capitaneria di Porto e dei pescatori, gli assessori Chetti Damante, Pietro Lorefici e Simone Siciliano. Adesso occupiamoci delle condizioni di degrado in cui versa il parcheggio Arena e il parcheggio di caposoprano a Gela Reset 4.0 chiede un intervento all'amministrazione comunale. Sentiamo. Quali sono le iniziative urgenti che l'amministrazione comunale di Gela intende adottare per risolvere i problemi che interessano il parcheggio Arena, rimasto al buio e completamente inutilizzabile? E' la domanda posta dai consiglieri comunali di Reset 4.0, Luigi Di Dio e Francesca Caruso. Il parcheggio, sostengono i due esponenti politici, rappresenta l'ennesimo spreco di denaro pubblico. Costata 3 milioni di euro, l'opera non è utilizzata. Il parcheggio Arena è utilizzato soltanto a 30%, quindi il 70% si trova in uno stato di degrado e abbandono. L'amministrazione comunale dovrebbe, secondo me, innanzitutto migliorare quello che è investire sul ripristino di tutto il parcheggio, renderlo agibile, far funzionare quello che è anche l'ascensore e in modo che possa essere collegato quello che è il lungomare con il centro storico e l'utilizzo completo di tutto il parcheggio, così come aveva detto in campagna elettorale. Per Reset 4.0 serve una strategia e un buon governo, non servono le promesse elettorali prive di contenuti. Allo stato attuale l'amministrazione 5 Stelle non ha nessuna responsabilità, se non quella dell'immobilismo. Questo abbiamo ereditato dalla vecchia amministrazione e questo è ancora è rimasto. Noi auspichiamo che la nuova amministrazione, così come ha detto in campagna elettorale, possa affidare questo servizio a lungo termine e farlo, così come ha detto magari alla Ghelas Multiservizi, così da dare il lavoro a questi addetti in modo definitivo, così da dare un utilizzo definitivo di questi due parcheggi, visto che ora deve nascere a Capo Soprano la cittadella della salute, quindi io penso che sia determinante l'utilizzo del parcheggio di Capo Soprano. Il far funzionare correttamente, probabilmente possiamo determinare sia nel periodo estivo, sia nel periodo invernale, l'utilizzo del centro storico come area naturalmente dove poter passeggiare e lungomare, poter fare l'isola pedonale d'estate e quindi avere il parcheggio completamente ristrutturato, adeguato e utilizzato dai nostri cittadini. La vostra, se vogliamo, non è una bacchettata, ma è una critica costruttiva. Sì, la nostra è una critica costruttiva, siamo inizio consigliatura, fare questo significa dare una prospettiva alla nostra città e far utilizzare a meglio le risorse economiche che ci sono. Sono arrivati da tutta la Sicilia i rappresentanti dei club Soroptimist a Gela per visitare i siti archeologici e le bellezze paesaggistiche monumentali della città del Golfo. Ad organizzare la giornata denominata dell'amicizia è stata la sezione locale del Soroptimist Club presieduta da Maria Grazia Falconeri e si è svolta domenica scorsa. Il tour è cominciato con la visita alle mura Timoleontè alla scoperta del suggestivo sito archeologico. Gli ospiti sono stati guidati dalle mini guide del sesto circolo didattico Luigi Capuana, diretto da Concetta Mongelli, e dall'archeologo Angelo Mondo. Gli ospiti hanno poi visitato il museo archeologico regionale di Gela e il centro storico. Immancabile il momento conviviale in un noto locale del lungomare di Gela. Un'opera incompiuta risalente agli anni 70 che avrebbe dovuto ospitare una scuola si candida a diventare centro servizio alla città. È il progetto presentato dal comune di Gela nell'ambito del bando della presidenza del Consiglio dei Ministri che stanzia circa 200 milioni di euro in tutta Italia per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate. L'immobile, del quale adesso permane solo lo scheletro di cemento ad adeguare alla norma antisismica, ricade nel quartiere denominato Baracche che presenta alti indici di degrado sociale ed edilizio, tutti i parametri istat che concorrono alla finanziabilità dell'opera. Il bando è quello delle aree degradate, è uscito circa un mese fa a livello di Consiglio dei Ministri. È un bando che doveva servire per la riqualificazione di aree che avevano un indice di degrado sociale, un indice di degrado edilizio elevato. Con il settore lavori pubblici, grazie al pieno impegno da parte soprattutto dell'architetto Galandi e dell'architetto Città, si è riusciti, dopo varie proprie studi del bando stesso, ad individuare un'area che potesse essere consona alla vittoria stessa del bando e quindi potesse essere comunque ammissibile al bando. L'area individuata è un centro servizi per il quartiere Baracche, lo stabile è un rudere che è accanto allo stabile dei lavori pubblici, quindi si cercherà di recuperare lo stabile che al momento è un rudere e dopodiché all'interno si andranno a fare tutte delle attività sociali che riguardano il telesoccorso ad esempio per gli anziani e così come un centro psicoeducativo diurno. Devo dire che alcune delle proposte per quanto riguarda la parte sociale all'interno e lo stabile sono arrivate anche da parte della società civile, infatti ad esempio c'è stato anche il contributo del dottore Agati per quanto riguarda la relazione del centro psicoeducativo diurno che servirà per il recupero dei giovani che vivono in uno stato di disagio. Per un importo di 2 milioni di euro il centro servizi alla città prevede l'offerta dei servizi di telesoccorso, dello sportello unico delle attività produttive, di un centro servizi alle imprese, di un centro psicoeducativo diurno e di una struttura multiservizi per immigrati. 37esima giornata del donatore si terrà domenica 6 dicembre prossimo nella sala del Cineteatro antidoto di Macchitella Gela promossa dall'ADAS. Appuntamento alle 16.30, prevista la presenza di Aldo Zino Caligaris, presidente nazionale FIDAS e dei cabarettisti Giulio Amico e Cristian Abbate conosciuti meglio come Fusibili Show. Durante la mattinata alle 8 nel centro di raccolta fisso di Via degli Appennini numero 5 si terrà una donazione di sangue alle 10.30 nella chiesa Regina Pacis, celebrazione della Santa Messa. Vaccinarsi fa bene, non lasciarti influenzare. Questo lo slogan scelto per promuovere la campagna anti-influenzale dell'ASP di Caltanissetta che in occasione dell'Influ Day, voluto dall'assessorato regionale alla salute, ha organizzato nei locali del Servizio di Sanità Pubblica, Epidemiologica e Prevenzione di Via Cusmano, una giornata di sensibilizzazione per invitare i nisseni, in particolare gli over 65, i soggetti a rischio e le donne al secondo o terzo trimestre di gravidanza e chi svolge un'attività di valenza sociale a vaccinarsi. 38.000 le dosi distribuite a medici di medicina generale nei 22 comuni della provincia, solo 3 su 226 non hanno aderito alla campagna. Per l'occasione il direttore generale dell'ASP Carmelo Iacono e il direttore sanitario Marcella Santino e tante altre autorità cittadine si sono sottoposte alla somministrazione del vaccino per poi indossare la spilla Io mi vaccino. Vaccinarsi significa prevenire e nel caso specifico del vaccino anti-influenzale, specialmente rivolto a quelle che sono le popolazioni a rischio, quindi i bambini, i portatori di patologie croniche, gli ultra sessantenni, è un atto che ci consente di avere meno complicanze durante l'epidemia influenzale, ci consente di avere meno morti durante l'epidemia influenzale perché l'influenza, bisogna che si sappia, può essere anche letale per queste patologie a rischio, ma ci consente anche un recupero importante di mancate giornate di malattia con tutte le ricadute sociali che ci sono sulla nostra società civile. Lo scorso anno si è registrato un 20% in meno di vaccinazioni nella popolazione over 65 con una ricaduta in termini sanitari, 648 ai casi gravi di influenza nella stagione influenzale 2014-2015, 163 i decessi. Vaccinarsi non solo fa bene, ma è importante, è importante perché previene una serie di malattie croniche che possono colpire soprattutto le fasce più a rischio, quali pazienti ultra 65 anni, che possono prevenire anche forme di mortalità o che possono diminuire malattie come la meningite. Voglio solo fare un piccolissimo appunto, l'anno scorso che la vaccinazione non è stata efficace è molto aumentata l'infezione da pneumocoque, sono molto aumentati le meningite ed è cresciuta di tantissimo la mortalità in questa popolazione. Quindi vaccinarsi non solo è utile, ma diciamo che è quasi importante e indispensabile. Sarà inaugurato oggi alle 19 il nuovo punto vendita di Caffa Carni Group in via Venezia 349 a Gela. La cittadinanza è invitata a partecipare. Ci fermiamo, c'è la pubblicità tra poco, restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. In occasione delle festività di Natale l'unità alzi sotto sezione di Gela sarà presente il 5, 6, 12 e 13 dicembre prossimi in piazza Umberto I, in via Palazzi, angolo via Albania, in via Le Corte Maggiore, nei pressi dei muretti di Macchitella e davanti alle parrocchie cittadine per la vendita dei presepi di cioccolata. Il ricavato garantirà alla sottosezione di sostenere le varie iniziative di far vivere dei momenti di condivisione fraterna ai diversamente abili. Grave lutto in casa dell'editore televisivo Antonio Cavaterra. Si è spento all'età di 90 anni oggi nella sua abitazione il padre Carmelo Cavaterra. Alla famiglia Cavaterra le condoglianze del gruppo di Canale 10 non è ancora stato stabilito il giorno e l'ora dei funerali. È attiva da alcuni giorni in via Italia al numero 17 a Gela la sede Punto Unicef. Gli orari di apertura sono i seguenti lunedì, mercoledì e venerdì. Dalle 17 alle 19 giovedì dalle 10 alle 12 i volontari sono a disposizione per qualsiasi offerta da destinare alle famiglie più bisognose. Impegno, passione, stare al passo con i tempi è tutto ciò per mezzo secolo di attività in provincia di Caltanissetta. È il concorso organizzato dall'azienda speciale in collaborazione con la Camera di Commercio che per l'occasione ha radunato nella sala conferenza del centro polivalente Michele Abate e 26 lavoratori che da più di 50 anni possiedono la propria attività commerciale in città e in provincia. Una pergamena accompagnata da una medaglia ad oro e una spilla sono stati i premi consegnati dalle autorità civili, militari e religiose che durante la cerimonia hanno più volte ricordato quanto il contributo degli imprenditori e dei titolari d'azienda abbia permesso all'economia nissena di resistere ai cambiamenti del tempo e della società. Credo che sia una giornata importante per la provincia di Caltanissetta e questo premio che l'azienda speciale della Camera di Commercio vuole dare ai cittadini, imprenditori, attività commerciali, agricole, industriali del territorio è per ricordare coloro i quali con molto coraggio hanno avuto la forza di resistere in un territorio pieno di difficoltà creando ricchezza economica e aiutando lo sviluppo dei territori. Noi non abbiamo la grande impresa, la piccola e media imprese e le attività commerciali sono il tessuto produttivo di una provincia che deve uscire dall'isolamento e vedere e ritrovare grandi prospettive con cui aiutiamo il territorio. Un premio alla resistenza, vale a dire la capacità di rimanere in attività per oltre mezzo secolo. È così che parlano del loro mestiere i due artigiani nisseni, Concetta Mico e Totò Duminuco. Ho scritto alla Camera di Commercio del 1963, ma avevo 15 anni, ne ho 82 e si tira un po' il conto, 62 anni che lavoro. È un enorme piacere, molto, molto piacere. Ma mi dispiace che oggi le ragazze non vogliono più imparare questo mestiere, perché è un grande e bello mestiere che sarei disposta ad insegnargli, per non perdere la tradizione, perché vorrei sapere se la cappellice non piace a nessuno, altro che se non piace, perché è bella, calda, elegante, molto raffinata. La mia professione caratterizza tante cose, ne potrei prendere una a caso. Io ho un cavallino, inizialmente oltre al poltrone della ditta famosa Scuderi, mi hanno dato anche un cavallino per tagliare i capelli ai bambini. Bene, io ho fatto quattro generazioni. Oggi vengono i padri a tagliare i capelli ai propri figli nel cavallino dove loro si sedevano. Proseguono gli appuntamenti in occasione della 81esima stagione concertistica gelese, promossa dall'Associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra. Domenica, 6 dicembre prossima, alle 19 al Palazzo Pignatelli, concerto del duo Antonella-Maria Callea al flauto e Paolo Alongi alla chitarra. Proseguono a Gela gli appuntamenti inseriti nel programma per la festa dell'Immacolata Concezione prevista per martedì 8 dicembre prossimo. Ogni giorno fino al 7 dicembre nella parrocchia San Francesco d'Assisi sono previste la preghiera del rosario e il canto dello stellario, celebrazione eucaristica e catechesi animata dai giovani e dai gruppi cittadini. Oggi alle 20 e 30 liturgia della parola con le comunità neocatecumenali. Natale in casa Cupiello, si tratta del prossimo appuntamento previsto il 12 dicembre alle 17 e 15 alle 21 e 15 al Teatro Comunale Eschilo di Gela, sul palco Enrico Guarneri. La regia è di Antonello Capodici. Per informazioni il botteghino resterà aperto tutti i giorni dalle 17 alle 20. Per informazioni 0 933 91 18 92 oppure 345 58 80 580. Prenderà il VL 15 dicembre prossimo la stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al Teatro Eschilo di Gela. Protagonisti degli eventi saranno Gianni Nanfa, Sergio Vespertino, Ernesto Maria Ponte, Lasciate Libero, Lo Scarrozzo e Giuseppe Castiglia. L'abbonamento per assistere a tutti gli spettacoli costerà 50 euro, mentre il singolo biglietto costerà 15 euro. Il botteghino sarà aperto il venerdì e il sabato dalle 18 e 30 alle 20 e 30. arriva il grande jazz a Gela, appuntamento al Teatro Comunale Eschilo. Venerdì 11 dicembre Francesco Caffiso in duo con Mauro Schiavone. Giovedì 17 dicembre Antonella Ruggero, venerdì 8 gennaio Francesco Buzzurro e venerdì 29 gennaio Fabio Concato. L'inizio degli eventi è previsto per le ore 21. Per informazioni bisognerà rivolgersi al botteghino. Dalle 17 alle 20 per informazioni bisognerà chiamare i numeri di telefono 0 933 911 892 oppure 345 5880 580. Corri con papà Natale, sesta edizione, si terrà il prossimo 12 dicembre alle 9 e 30 in piazza Umberto I a Gela. L'iniziativa sportiva è promossa dall'associazione Green Night Sport presieduta da Giuseppe Veletti. Informazioni e iscrizioni al numero 347 57 99 271. Concludiamo questa edizione del nostro telegiornale con l'informazione cinematografica è né Giulietta né Romeo e il film in programmazione al cineteatro antidoto di Macchitella a Gela. Sono tre gli orari di rotazione della pellicola 17 e 30, 19 e 30 e 21 e 30. Con il cinema è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per aver scelto anche oggi la nostra informazione. Vi ricordiamo che notizie, approfondimenti e servizi sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it e vi ricordiamo inoltre che il nostro televideo è costantemente aggiornato. Grazie, arrivederci.